Ciao a tutti, sono Sandro2011 e facciamo anche oggi un video sull'evento di San Patrizio che si sta svolgendo in beta. Oggi parleremo soprattutto di strategie, quindi decidere quante città conviene fare, con quali modalità. Sarà un video più di numeri che di gioco, però ritengo che possa essere abbastanza utile e chiarire molte cose. Sono passati 5 giorni, dal 12 che è cominciato l'evento oggi è 17, io ho già finito due città, sto facendo la terza, in sostanza si riesce a fare anche due città al giorno, quindi in 22 giorni di evento si potrebbero fare in teoria 11 città, con non poche difficoltà insomma. Basta farne molte meno per vincere tutti i kit necessari e vedremo adesso quali sono le possibilità. Allora andiamo subito nel gioco, ecco questo è il server beta, vediamo qual è la situazione. Allora come missioni, sono arrivato alla missione 41, quindi ho finito le missioni che si possono fare tutte insieme, devo aspettare adesso le missioni del giorno, oggi l'ho già fatta, fra poco arrivo al secondo punto in cui si vincono pentole, 1400 pentole extra, quindi un punto importante, ho già preso la base e un kit qui dalle missioni, me ne rimane un altro alla fine. Se io vedo in generale qui nel magazzino, allora questo è il kit di selezione dell'anno scorso, quindi ho la base, ho 3 aggiornamenti e 2 kit, quindi 3, 4, 5, 6, in realtà me ne mancano soltanto 4, uno lo prenderò dall'ultima missione, qui abbiamo detto 3, 4, 5, 6, me ne mancano 4, uno all'ultima missione me ne rimangono 3, 3 se arrivo a 5 città li prendo uno da ogni città o se no posso prenderli qui dai mini task, vedete uno già l'ho preso, ne rimane un altro, altre 25, 50 missioni, meno 4 che l'ho fatta e prenderei un altro kit, quindi insomma è abbastanza semplice arrivare tutto sommato a prendere tutti i kit. Il punto a cui fare attenzione è le pentole, le pentole sono poche, quindi non bisogna sprecare pentole, si spregano pentole e non si riesce a finire l'evento e bisogna utilizzarle nella maniera migliore per prendere più kit, più premi possibili, il premio possibile, quindi è proprio questo il calcolo che faremo oggi. Per fare questo andiamo subito su Excel a questo punto, questo è un file Excel che ci aiuterà oggi, che ho utilizzato per fare, proprio per fare queste ipotesi di strategia, ingrandiamo un pochino in modo che possiate vedere meglio nel video. Allora, cominciamo a contare quante pentole abbiamo, noi abbiamo 200 pentole iniziali, pentole d'oro, che ci vengono date proprio appena si entra nell'evento, poi abbiamo, se chiaramente ci colleghiamo tutti i giorni, ogni giorno abbiamo 100 pentole che ci sono andate gratis, quindi 22 giorni abbiamo 2200 pentole. Poi abbiamo 35 missioni Rush, le missioni che si possono fare anche tutte rapidamente una dopo l'altra, da 100 pentole ognuna e sono 3500 pentole. Poi 21 missioni giornaliere da 150 pentole l'una e sono 3150. Poi alla missione 20 e 45, ve l'ho fatto vedere prima, abbiamo le pentole extra, 750 alla missione 20 e 1400 alla missione 45, per un totale di 11200 pentole. Con le 11200 pentole dobbiamo fare tutto quello che ci serve, dobbiamo utilizzarle nel migliore dei modi. In realtà a questo numero si aggiungono le pentole degli incidenti, quindi non ho segnato, dipende dalla fortuna, dipende da quanto le raccogliamo, però si può avere anche qualche centinaio di pentole in più se si ha un po' di fortuna e si raccolgono costantemente tutti gli incidenti sulla città. Quindi questo è il primo punto. Poi, secondo punto, per avere il premio finale servono 10 kit, fra base, kit, aggiornamenti, perché sono 10 livelli. La fattoria celtica servono 10 livelli e da dove possiamo prenderli? Allora, vediamo. Il primo lo prendiamo, se ce l'abbiamo, dalla scatola sorpresa. Certo, chi non ha fatto l'evento precedente si troverà più in difficoltà perché ha un kit in meno e quindi dovrà rimediarne uno in più e potrebbe non essere facile. Comunque, un kit si prende dalla scatola sorpresa. Tre kit si prendono dalle missioni, ve l'ho fatto vedere prima. Poi, ogni kit si prende da una città. Se a fine città utilizzo 1900 forzieri e apro tutti i 1900 pentole e apro tutte e sei i forzieri, prendo un kit e quindi se faccio quattro città avrò quattro kit. Quindi, ricapitolando, un kit dalla sorpresa, tre kit dalle missioni, quattro kit dai forzieri, quindi uno da ogni città. Rimangono due kit per arrivare a 10 e due kit li devo prendere dai task. Per task intendo, ecco, i task sono all'interno del gioco, sono questi qui, che sono come delle piccole missioni, task non so, in italiano non so se li traduce compiti o addirittura missioni. Comunque, questi task aggiuntivi che io posso fare ogni volta che ne faccio 25 prendo un premio, una volta su tre ho il kit che mi interessa. Quindi io dovrei prendere due kit. Torniamo al file Excel. Qui in alto io ho messo l'elenco dei premi, vedete, i premi, quelli in rosso sono i kit, gli altri, e si prendono ogni 25 task. Quindi con i primi 25 task prendo un premio, poi ho altri due premi, arrivo a 50, 75, quando arrivo a 100 task, notate che i task li posso portare da una città all'altra, se non è che devo finire tutte e 25 task in una missione per avere il premio, in una città per avere il premio. Ne posso fare 18, gli altri 7 li faccio la città dopo. Quindi per avere due kit come mi serviva devo arrivare a 100 task. Se faccio quattro città mi bastano 25 task per città. Quindi questa è la strategia più semplice, più lenta, più tranquilla, che ci garantisce senza grosse difficoltà di avere i 10 kit finali. E allora ricapitoliamola. Io faccio quattro città, io le ho chiamate città normali, quelle base, quelle semplici. Allora che cosa faccio? Io devo in ogni città utilizzare 1900 pentole per aprire i forzieri alla fine della città. Siccome in totale ho 11.200 pentole, mi rimangono 900 pentole per ogni città, perché vedete, qui ho moltiplicato le pentole, queste qui vengono fatte moltiplicando le pentole, i 1900 più le pentole dei task, quindi per ogni città 1900 più 900 sono 2008. Per quattro città viene 11.200. Quindi utilizzando 900 pentole per i task in ogni città e 1900 per i forzieri, io completo quattro città esattamente con 11.200 pentole che erano quelle che avevo. Quindi posso farlo tranquillamente. Quattro città ho tutto il tempo di farlo, io ho fatto le città in due giorni, se si fa attenzione si riesce a farle in due giorni, in realtà per fare quattro città io ho 22 giorni, ho più di 5 giorni a città, quindi c'è tutto il tempo, tutta la calma. 900 pentole per i task sono tantissime, perché con 900 pentole a me, siccome è sufficiente avere 100 task in quattro città, devo fare 25 task in una città. 25 task con 900 pentole poi li faccio tranquillamente, le pentole usano i task per i manager, per portare su di livello i manager, ci sono molti task che ci vengono di portare su di livello i manager, quindi diciamo che fare una città con 900 pentole per i task e 1900 per i forzieri è molto semplice. In questo modo, dopo una città io avrò fatto 25 task in ogni città, se ne faccio di più tanto meglio, prenderò tanti premi aggiuntivi, però 25 è il minimo che devo garantire per arrivare alla fine delle quattro città a 100 task e quindi a prendere due kit dai task. Quindi io prenderò 25 premi dei task, prenderò i 6 premi dei forzieri, più un kit che è del premio dell'evento, è quello che mi interessa, che lo prendo a fine città quando apro tutte i 6 forzieri. Dopo la città potrei continuare a aprire di nuovo un altro set di forzieri, ma ogni volta costano di più e poi se lo facessi non mi basterebbero le pentole per arrivare a tutti i kit che mi servono per fare le città successive. Quindi fermatevi a 6 forzieri, il primo è gratis, gli altri costano sempre più pentole e in totale con 1900 prendo i 6 forzieri e presi i 6 forzieri mi viene dato anche un kit. Quindi a fine delle quattro città io l'ho consumato tutte le 11.200 pentole, avevo fatto 100 task, abbiamo detto, quindi avrò preso 100 premi dei task, 4 kit dei forzieri, sì, dei forzieri delle città, 24 premi dei forzieri, i 6 forzieri per ogni città e in più qui non l'ho scritto qui, l'ho scritto alla fine dove c'è il totale, se io in totale ho fatto 100 task perché i task vanno avanti da città a città avrò preso 2 kit e quindi io alla fine avrò, eccoli qua, avrò un kit della scatola sorpresa, 3 delle missioni, 4 dei forzieri, 2 dei task e 10 in totale, eccoli qui, 1 più 3 più 4 più 2 fa 10 e quindi avrò tutto quanto. Quindi alla fine della, questa l'ho chiamata strategia 1, vedete poi per confrontare le varie strategie, la strategia 1 mi garantisce alla fine 100 premi di task, 24 premi dei forzieri e 10 kit, ci ricordiamo, 100, 24 e 10, confrontiamo qui, 100 premi di task, 24 dei forzieri e 10 kit. Quindi questa è una strategia molto semplice per chi vuole comunque completare l'evento ma non vuole andare di fretta, non vuole scocciature, non vuole problemi, questo non dovrebbe creare problemi. Fate soltanto attenzione però, ah, 1, non usare più di 900 pentole per città, quindi lasciate perdere tutti i task che vi chiedono di portare i manager a livello molto alto, soprattutto i manager di fabbriche importanti, come non so, i fiori, i fuochi, i fuochi, soprattutto le bevande, quelli più alti, che richiedono molte pentole, quindi non utilizzate, saltate la missione. D'intanto ricordate che in ogni città ci sono al massimo 38 task, ma l'importante per fare questa strategia è che voi ne fate 25 e con 900 pentole avete tutta la possibilità di farne 25. Altra cosa, non chiudete la città se non vi sono rimaste 1.900 pentole per aprire tutti i sai forzieri, se no poi non potete aprire i sai forzieri e non potete avere il kit. Quindi questa è la prima strategia molto semplice che non dà problemi. Facciamo un confronto con la seconda strategia. Nella seconda strategia noi invece di fare la città così come abbiamo detto, con 900 pentole, che in realtà sono tante 900 pentole per i manager, vediamo se riusciamo a risparmiare task, a risparmiare pentole per fare una città in più. E allora noi se per ogni città utilizziamo non 900 ma solo 340 pentole per i task, ce ne rimangono 1.900 per i forzieri e in totale arrivo comunque a 11.200, quindi in sostanza posso fare 5 città invece che 4, prendendo comunque sempre tutti i forzieri. Perché praticamente questi 900 per 4 città sono 3.600. 3.600 se lo divido per 5, no 9 per 4, sì 36, no se lo divido per 5, devo 3.600, 3.600, no perché ci sono i 1.900 in più che sono per 5, quindi questi 3.600 devo levarne 1.900 che li uso per la città in più e quindi da 3.600 vengono 2.700, certo 2.600, no 1.700 e quelli che vengono dividito per 5 città o 3.40, comunque qui c'è tutto il conto, se io faccio 5 città da 1.900 e 5 città utilizzando 340 pentole per i task, per i manager, avrò per ogni città 2.240 pentole e per 5 città 11.200 e quindi vado tranquillo. Qual è la differenza? Beh 5.000 città ugualmente tutto il tempo per farlo, devo fare attenzione perché è un po' difficile utilizzare questi 340, utilizzare solo 340 pentole, io qui ho sognato di fare 15 task, si fanno tranquillamente, io adesso ho fatto già 3 città, la terza la sto concludendo, nella prima città ho usato 350 pentole per i manager, a parte i forzieri, nella seconda ne ho usato 340 e nella terza non sai 330, quindi di media sto sui 340 e ho fatto 20 task nella prima, no 19 nella prima, 15 nella seconda e 20 nella terza, quindi 15 task si fanno tranquillamente, ma in realtà facendo 5 città, 15 task sono tutti premi in più che ne ho premi, ma mi basterebbe farne 5, perché se io faccio 5 città, a me qui me ne basta dai kit dei premi, me ne basta uno, vedere dai kit dei task, perché io ho un premio della sorpresa, 3 premi dalle missioni e sono 4, 5 a questo punto dai forzieri avendo fatto 5 città e sono già 9, quindi me ne basta uno, mi basta il primo, a me basta fare 25 task in tutto, quindi anche se facessi 5 città in ogni città faccio solo 5 task, comunque raggiungo i 10 kit dell'evento, allora quale conviene fra le due strategie, la 1 o la 2? Beh confrontiamole, qui nella 2 io vengo a prendere sempre 10 kit, però avrò 75 premi per i task e 30 premi per i forzieri, se confrontiamo con la strategia 1, no, qui confronto le strategie, vedete, io qui ho 75 premi per i task invece che 100, quindi ho meno premi perché i task ne faccio di meno, chiaramente perché ho meno pentole, però ho più premi per i forzieri, però effettivamente è sempre 10 kit, effettivamente vale la pena fare una città in più in questo modo? Forse non vale la pena, perché io rinuncio a 25 premi dei task per avere 6 premi dei forzieri, i premi dei task e i premi dei forzieri sono tutto sommato abbastanza simili, quindi forse fra le due strategie è meglio la prima, me le faccio con tutta calma, non solo, ma nella prima abbiamo detto, io qui ho messo 25 task a città, ma in realtà con 900 kit per 900 pentole probabilmente se ne fanno anche molti di più, quindi forse questi 100 sono anche un po' stretti, in realtà saranno anche di più, quindi fra queste due strategie sembrerebbe più utile la prima. Vediamo però altre strategie, una strategia che è stata proposta da alcuni giocatori è quella di fare molte città, andiamo sulla strategia 3. Nella strategia 3 torniamo alle città normali, quelle da 900, fatte con 900 pentole, però io di pentole ne avrei molte di più se non sono i forzieri per prendere un uso 1900, quindi rinunciamo ai forzieri e chiaramente io rinuncio anche ai kit delle città, quindi io faccio tante città ma non prendo i kit e i kit devo prenderli tutti dai premi dei task, dai premi dei compiti, quindi quanti me ne servono? Facendo il conto di prima io ho un kit a sorpresa, 3 kit dalle missioni sono 4, me ne servono 6 dai task, per avere 6 premi dai task devo prendere 400 task, per fare 400 task con 25 task a città, beh in realtà qui potrei farne anche di più, però insomma dovrei fare 16 città, qui ho 16 città con 25 task. In realtà c'è la strategia subito dopo che io consumo meno task prima, è sicuramente migliore, consumo soltanto, la vediamo la strategia 4, posso fare addirittura così 27 città, con gli 11.000 anche di più potrei farne, con i 340 pentole, però qual è il problema di queste due strategie? Faccio tante città, non prendo i forzieri, prendo tantissimi premi dei task, il problema è, lo vediamo subito qui dal confronto tra le strategie, se io faccio 16 città come avevo detto, mi servirebbero 14.400 pentole per arrivare, a meno che, per arrivare non ai forzieri, ma per arrivare al 400, insomma per riuscire a prendere tutti i kit che mi servono, e poi 16 città non riesco a farle, perché le città al massimo ne faccio 11, 2 al giorno, di più non si riesce, quindi direi che la strategia 3 non è proponibile, perché non si riesce. La strategia 4 è analoga, si riesce con le pentole, ma devo fare 27 città, ma non ho il tempo di fare 27 città, quindi anche questa non è fattibile. Quindi torniamo alle prime due strategie. La strategia 5 però è una via di mezzo, allora noi abbiamo detto adesso che la strategia migliore sarebbe stata la 1, perché la 2 dà pochi premi, però io che cosa posso fare? Posso fare per esempio 4 città con la strategia 2 e risparmiando i 1900 premi, risparmiando insomma nelle pentole, perché con la strategia 2 ne ho usato i 340 invece che i 1900, i 1900 che mi rimango li utilizzo per fare altre città, qui me ne bastano con 340, ne faccio una. Andiamo a vedere la strategia 5 e vediamo i conti fatti con precisione. Allora io faccio 4 città rapide, per fare 4 città rapide mi servono e prendo tutti i forzieri, quindi mi servono 8960 pentole, che comprendono 1900 più 340, quindi per ogni città 2240, per 4 città 8960, mi rimangono 2040 pentole e mi serve un forzieri in più, ma con 2040 pentole, se io faccio tutte città come quelle rapide con 15 task, io con 6 città farei 60 premi, 90 scusate, 90 task, con 90 task, beh in realtà con 90 task prenderei un solo kit, ah sì certo però i kit li ho presi qua, io ne faccio 90 qua, ma ne ho fatti altri 60 con le 4 città, quindi in totale io vengo a fare 150 task, con 150 prenderei 2 kit e quindi quel kit che ho preso meno con la città, l'ho preso in più da qui, se poi riesco invece che 15 a fare più task ne prendo ancora di più, quindi ricapitolando, in questa strategia mi installa 5, io faccio 4 città utilizzando in ognuna 1900 kit, 1900 pentole per i forzieri e quindi ho i 4 kit dei forzieri e uso 340 kit, 640 pentole per i task, quindi in ogni città devo cercare di fare almeno 15 task, si fanno, io li ho fatti con 340 pentole, quindi avrei alla fine 60 task, più 6 città fatte senza aprire i forzieri, si apre soltanto un forziere quello gratis e quindi in questo modo avrei altri 90 premi aggiuntivi, quindi avrei 150 task, quindi 2 kit per i task, 4 kit dei forzieri per le città, in totale avrei comunque 10 kit, però avrei 150 premi di task e 30 per i forzieri, se andiamo a fare il confronto delle strategie, vedete, nella strategia 1 io avevo 100 premi di task, nella 2 ne ho 75, nella 5 ne ho 150, che è il doppio della strategia 2, ma comunque una volta in mezzo la strategia 1 e ho 30 premi dei forzieri, che sono come quelli della strategia 2, quindi in sostanza la strategia 5 è molto migliore, sia della 1 che della 2, chiaramente richiede più tempo e più attenzione, quindi è una strategia un po' sfidante, però è molto utile, è molto importante, è quella che dà i migliori premi, vedete, tornando alla strategia 5, io devo fare 4 città e in ogni città prendo i forzieri e uso 340 pentole per i manager, cercando di fare almeno 15 task di media in ogni città, ma si fanno, perché io con 340 li ho fatti, ne ho fatti anche di più, dopodiché si fanno 6 città utilizzando, non utilizzando le 1900 pentole per i forzieri, quindi si prende solo un forziere a città, quello gratis, non si prende il kit, ma tanto il kit in più lo prendo da qui perché farei molti più task e quindi molti più premi, in totale 150 premi per i task, 30 per i forzieri e 10 kit, quindi vedete non c'è confronto tra le 3 strategie, un'altra avvertenza, io ho detto prima faccio le 4 città con i forzieri e poi le altre, in realtà queste 6 potete anche inframmezzarle a queste, potete scegliere ogni volta se fare la città utilizzando i forzieri o quella senza forzieri, voi fate regolarmente la città perché sempre 340 pentole per i manager dovete usare, dopodiché decidete, potete decidere se avete le pentole, se non ce l'avete, per esempio io adesso domani probabilmente finirò questa città, anzi qui aggiorniamo questo manager, dovrei arrivare a 300, domani finirò questa città, probabilmente non avrò ancora le 1900 pentole, quindi io ho fatto due città utilizzando le 1900 pentole per i forzieri, la terza la potrei fare senza, e la quarta anche, poi secondo i forzieri che ho posso decidere se utilizzarli o no, l'importante è che in totale io faccio 4 città utilizzando tutte e 6 forzieri e 6 città non utilizzandoli mai, utilizzandoli solo uno che è quello il primo che ci viene dato gratis, e in tutte le città sia quelle includute i forzieri, sia in quelle che no, devo utilizzare 340 pentole per i manager, in questo caso ho per ora diciamo la soluzione migliore, poi vedremo che forse si può migliorare ancora, e che cosa succede però se non abbiamo la pentola sorpresa, non tutti hanno la pentola sorpresa, allora veniamo alle strategie 6 e 7, le strategie 6 e 7 sono uguali alla 1 e la 2 però non avendo la sorpresa, quindi nella strategia 6, vedete faccio tutte città normali, ma non ho la pentola sorpresa, quindi mi serve un kit in più, e il kit in più dalla città non posso prenderlo, perché mi servirebbe altre 1900 pentole, cioè non riuscirei, quindi se faccio la città normale dovrei fare 44 tasche a città, 44 tasche a città non si possono fare, perché se ne possono fare al massimo 38 in una città, e poi non riuscirei a farlo con 900 pentole, quindi se non ho la scatola sorpresa, rinunciate alla strategia di fare 4 città, vedete nel confronto la strategia 6 non è riportata correttamente, comunque la strategia 6 non si può fare, perché servono 44, bisognerebbe fare 44 tasche a città, e le tasche al massimo sono 38 a città, vediamo la strategia 7, la strategia 7 è quella invece della città con 340 forzieri, fare 5 città, la differenza è che qui rispetto alla strategia 2, qui facevo 15 tasche a città, e quindi in totale arrivavo a 75 e prendevo un solo kit, però basta poco, basta arrivare a 100 per prenderne 2 e prendo il kit aggiuntivo, quindi se io faccio, invece che 15 ne faccio 20 a città, faccio 5 città, mi bastano le pentole, con i forzieri che ho, e 5 città e arrivo con il, si ecco, la differenza rispetto alla strategia 2 è che per avere, siccome qui facevo 15 tasche a città, qui ne devo fare 20, con i 20 più riesco ad arrivare al secondo kit, perché riesco ad arrivare sopra 100, riesco ad arrivare a 100 tasche in totale fra tutte le città, quindi se non le tasche hanno sorpresa, rinunciate alla strategia più semplice di fare 4 città e fate quella di farne 5, è l'unica possibilità, poi c'è come al solito la possibilità di farle, di farle miste, questa è la possibilità senza sorpresa, questa è la più difficile, qui dovete fare uguale alla strategia 5 che vi avevo consigliato, però se non avete la scatola sorpresa, invece che fare 15 tasche a città, dovete farne 20, e riuscite ugualmente anche senza scatola sorpresa, fate 10 città, 4 prendendo i forzieri, e 6 non prendendo i forzieri, per un totale 10 città, avete 10 kit, 4 dalle 4 città con i forzieri, 3 dai task, arrivate a 200 in questo modo, e quindi arrivate anche a questa, al terzo kit, 3 dalle emissioni e nessuno della scatola sorpresa, però a questo punto io mi sono posto una domanda, ma se io riesco a fare, a prendere un kit in più qui, perché non ho la scatola sorpresa, perché non provare a prendere un kit in più, anche se già c'ho quello della scatola sorpresa, un kit che al momento non mi serve, ma rimarrà magari per l'anno prossimo, o per il futuro, se per fare un secondo kit dell'evento, e allora arriviamo alla strategia 9, la strategia 9 è la più completa, la più difficile, la più sfidante, dovete avere la scatola sorpresa, però diversamente dalla strategia 5 che avevo detto che era la migliore, invece di 15 task dovete farne 20, su ogni città, di media 20 a 20, potete anche in quella città farne di più e in una di meno, perché le città non sono tutte uguali, facendone 20 e voi che cosa fate? Fate 4 città con i kit e avete i 4 kit, fate 6 città senza i forzieri, però facendo 20 task a città arrivate a un totale di 200 task, perché avete 10 città da 20 e con 200 arrivate a prendere il terzo kit da qui, e quindi prendete un kit dalla sorpresa, 3 dalle missioni, 4 dalle città, dai forzieri, dalle città in cui avete usato il 1900, 3 dai task, quindi in totale avete 11 kit e addirittura avete 200 premi per i task e 30 premi per i forzieri, vedete se confrontate tra tutte le strategie, eccola qui, questa alla fine è la migliore, però un po' difficile, però si riesce, penso che si riesca uguale, avete 200 premi, il doppio della prima strategia, dai task, 30 premi, quindi comunque quanto quelli della seconda per i forzieri, e in più avete 11 kit invece che 10, se avete la scatola sorpresa. Certo, uno può non sapere all'inizio ma riuscirò o non riuscirò, però diciamo che uno può fare una strategia 5 puntando alla 9, quindi voi fate la strategia 5, che significa la strategia 5? 4 città utilizzando i forzieri e 3,40 pentole per i manager, 6 città utilizzando sempre 340 pentole per i manager, ma non utilizzando i forzieri. Voi sapete che per arrivare a 10 kit dovete fare 15, mediamente 15 task a città, e per arrivare a 11 dovete farne 20, quindi cercate di fare più task possibile senza superare la media di 3,40, quindi voi andate avanti e vedete finché avete i task andate avanti negli eventi, finché avete le pentole, quando non vi bastano più le pentole non superate i 3,40 di media, magari in una città fate qualcosa di più o qualcosa di meno. Va anche considerato che come avevo detto all'inizio potete avere qualche pentola aggiuntiva dagli incidenti e potete utilizzarla anche per fare qualche manager in più e quindi spostare questo 15 verso i 20, quindi una strategia 5 tendente alla 9 se riusciamo ad avere un po' di fortuna, se riusciamo a fare più task. Direi che questa è la strategia migliore, quindi riassumendo, consiglierei a chi non ha tempo e non ha voglia di fare la strategia semplice, 4 città e in ogni città utilizzare 1900 pentole per i forzieri, aprire tutte e 6 forzieri e 900 pentole per i manager. Fare almeno 25 task a città è molto semplice farlo. Per chi invece vuole fare qualcosa di più difficile, ecco suggerisco la strategia 5 o meglio ancora la strategia 9. La strategia 2 in realtà si è visto che non conviene perché si hanno meno premi, quindi se si vuole fare qualcosa di difficile fare la 5 o la 9, 5 e la 9 che sono uguali, cambia solo il numero dei task se si riesce a portarli su, quindi la 5 e la 4 città complete con 340 pentole per i task e 1900 per i forzieri. Più 6 città diciamo senza forzieri, sono uguali queste città, l'unica differenza è che non uso 1900 pentole per i forzieri, prendo soltanto i premi e prendo i task. Non so se vi ho confuso l'idea, se è stato troppo complesso, però ci ho ragionato molto, ho fatto un po' di calcoli, sono arrivato a questa conclusione, io cercherò di utilizzare quindi questa strategia 5 tendente alla 9 e poi vedremo, magari al fine evento farò un video sul finale, vediamo se la strategia ha funzionato e anche da quello potremo decidere che fare nella città sul server nazionale quando partirà questo evento. Ciao a tutti, buon game, alla prossima!